Anni di sacrifici ed investimenti rischiano di andare in fumo per molti titolari di concessioni demagnali che perderanno praticamente i loro beni inamovibili come stabilimenti, bar, pizzerie, spogliatoi, piscine costruiti sugli arenili senza ricevere alcun indennizzo. La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in merito e ha stabilito che alla scadenza delle concessioni balneari in ogni caso non oltre il prossimo 31 dicembre lo Stato italiano può acquisire le opere non amovibili senza dover indennizzare i concessionari uscenti. Con l'entrata in vigore della direttiva Bolkestein le concessioni verranno messe ai bandi di gara e quindi chiunque abbia requisiti per farlo potrà partecipare alla riassegnazione delle aree demagnali. La sentenza di Lussemburgo ha scatenato le proteste dei concessionari che quantomeno speravano di essere indennizzati in merito ai lavori eseguiti per la costruzione delle strutture ricettive sugli arenili e gli investimenti di molti anni di sacrifici. Oltretutto la decisione della Corte Europea fa saltare il blocco parziale che aveva di fatto impedito di procedere già alla data del 1 gennaio di quest'anno con i bandi di assegnazione delle concessioni. In altri termini Lussemburgo ha dato via libera agli espropri delle aree demagnali gestite dai balneatori. Si cerca però una via d'uscita, in tal caso la regione Abruzzo sta portando avanti una linea che è quella di fare in modo che si possa girare l'articolo 49 del Codice della Navigazione che risale al 1942 che vieta il risarcimento di opere non ammovibili alla cessazione delle concessioni. Abrogando questo articolo la procedura di indennizzo o meglio ancora di parziale risarcimento potrebbe essere ancora garantita. La strada resta comunque ancora contorta ma una speranza di non perdere proprio tutto ancora c'è per i titolari uscenti di concessioni dei magnali.